Grazie a te, tesoro, grazie, dimmi tu, a disposizione, quando lo vuoi. Sì, l'importante è che sta a 19,72 metri a Pietro Venea, vedete? Il record di Pietro Venea, visto che a Barletta non già abbiamo una statua, la facciamo noi a Pietro Venea, questo fallo è dedicato a noi, questi sono 19,72 metri a Pietro Venea. Venea, vedea, 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 vedea! Voi non immaginate che alzeste la cosa, ciò cosa mi accompagnate. E quando fai a te che sei dovuto fare? Amore, ci tenete concentrazione, volete aiutare! Bravo, bravo, bravo! Ciao Francesco, grazie, veramente! Se apprezzate! Se apprezzate ciò che stiamo facendo, che hanno fatto! Tutti quanti, i ragazzi, vedete, questi ragazzi valorosi, valorosi, che li ringrazierò fino a quando mori, eh, a chi sognano! Grazie Domenico, grazie Salvatore, grazie Antonio e grazie ai due Micheli! Michelin, 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 Michelin! E ve lo dico... Torre Eiffel, Barletta Torre Eiffel! Ragazzi, veramente, abbiamo fatto qualcosa che... Qualcosa... Qualcosa di eccezionale, credeteci! Lo stiamo mettendo in sicurezza, perché questo qua si è riempito di legne! La speranza è quella, di portare legne e andare avanti, e andare avanti! Voste ci fate a portare legne, a portare legne! Noi mettiamo il lavoro, voi portate la legna! Comunque, di qua, da giù, assolo, solo 19,72! E sono il record mondiale che abbiamo fatto! Questa è un'altra prova, come noi ci teniamo a Barletta e Barlettani che hanno fatto la storia! 19,72! Anche sono un po' inclinato con la torre di Pisa, con l'inclinazione di Pedro Everniera quando partiva per la gara! Bravissimo, bravissimo! Abbiamo fatto qualcosa veramente di speciale e eccezionale, ragazzi! Unica, unica! Veramente! Mai fatti una cosa del genere a Barletta! E non Barletta avesse, sia ben chiaro! Unica nel suo genere! L'effetto di tutti i Barlettani! Tutti i Barlettani! Che si sono prodigati a fare questa cosa, questa grandissima cosa! Non so se... 19,72! C'è uno che... C'è uno che... Comunque dai ragazzi! Michelin! 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 Comunque voglio ringraziare pubblicamente un grande amico, Vincenzo! E sappiamo di che Vincenzo stiamo parlando! Non sento vicino! Grazie Enzo! Vincenzo! E' questo! E' questo! E' questo! E' questo! E' questo! E' questo! E' il nostro amico, Torino! Orgoglioso! E' ora faccio fatica! Fra Fra FraThurt! Esci entrato! E' il Dio! è un po' di isola nostra un po' di ragazze che non c'è ah grazie ragazzi comunque ora il grosso è stato fatto ora dobbiamo riempirli chi ha la legna lo può portare ragazzi e non volete rubare perché dopo questo sacrificio che abbiamo fatto non mi vado a farlo beh ragazzi grazie a tutti grazie da Bologna ci saluto da Bologna 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 Ciao